credo sia una partita incommentabile questa qua grazie per i tantissimi che sono intervenuti la nostra live anche tifosi delle altre squadre sono stati educati io però direi che cosa ha detto il mister mentre registriamo se registriamo nuovo lo ignoriamo trovo scadente la prestazione lo spirito di squadra non so neanche cosa dire in sostanza è una cosa che intanto parla pure io prendo una cosa che ben ritrovati ben ritrovati tutti passo davanti alla telecamera ma è purtroppo una situazione che parte da lontano il manifesto di questa sera passo ancora davanti e ove tutti i nodi sono venuti al pettine però il problema dei nodi che vengono al pettine purtroppo non riguarda gli scarsocriniti che quindi non hanno contezza di quello che può accadere la partita di con l'udinese è stata il manifesto di tre anni scusate il termine di cazzeggio siamo più violento per nulla creativo tre anni in cui ci si è cambiando 15 giocatori e quindi evidentemente non era colpa dei giocatori che non ci sono più ma come non è colpa dei giocatori che ci sono adesso in cui tre anni in cui ci si è preoccupati soprattutto di curare malamente la fase difensiva risultata talvolta apparentemente solida semplicemente per la pochezza delle squadre che si sono affrontate in banana league ma che risulta ancora oggi assolutamente persa pochista disorganizzata prendiamo gol da polli e quello e quella fase lì dovrebbe essere il punto forte della squadra dicevo prima la partita con l'udinese è stata il manifesto di che cosa della situazione alla quale può condurre prendo anche un altro la mancanza continua con la mancanza di cultura del lavoro dove la la mancata propensione a svolgere un certo tipo di lavoro ed è tanto più grave dopo tre anni perché in questa stagione c'è tutta una settimana per preparare una partita ma che come è stata preparata la partita contro l'udinese otto giorni e signori signori otto giorni da domenica sera a lunedì sera per apparecchiare una porcheria di proporzioni sesqui pedali e non ci si vede non non venitemi a raccontare nei commenti che il problema è il centrocampo e che la rosa è scarsa perché stavamo giocando contro l'udinese una squadra modestissima una squadra che alla quale è bastato fare un ordinato un ordinato contenimento difensivo e per riuscire senza particolari sofferenze a portare a casa il bottino pieno ma è normale che la juventus all'allianz stadium non sappia mettere insieme un'azione che non sia casuale la casualità lo dice il nome nome stesso può verificarsi due tre volte a partita due o tre sono stati gli squilli che avrebbero potuto in qualche modo indirizzare il risultato non le conclusioni finali è perché badate bene che qui nessuno è influenzato dal risultato ma da come arrivano i risultati ve lo dicevamo quando le partite venivano vinte e suscitando sorrisetti eronici ironici e battutine assurde ve lo ve lo stiamo ripetendo ve lo stiamo ripetendo adesso perché il non gioco l'improvvisazione il caos questo calcio passeggiato ruminato masticato concimato non porta da nessuna parte e fa parte è un reperto d'antiquariato fa parte di un passato che non tornerà più e e al quale ci si è qualcuno ci ha consegnato mani e piedi questo incubo questo tunnel senza fine senza fine momentaneamente ecco senza senza fine oggi è reso ancora più buio da un evento che rientra nella normalità vale a dire non gli episodi quando smettano di girare a favore ti girano contro a me girano altre cose battute a parte questa qui è la squadra che noi amiamo non pretendiamo di vincere sempre ma di avere dignità in campo di dare il sangue magari l'avete fatto però non ci siete riusciti allora organizzatevi questa la juventus e questo nell'ambito dove bisogna anche dire di questa partita perché poi questo video nasce anche per commentare quello che abbiamo purtroppo l'incommentabile l'incommentabile di una partita nella quale si è pencolati sulla fascia di campo dove c'erano i giocatori di miglior talento che purtroppo non sono riusciti ad esprimere compiutamente perché perché si trovavano a giostrare in un in un vuoto pneumatico nel nulla in una in un complesso farraginoso abborracciato messo insieme lì per caso in cui bremere gatti chiamati a impostare il gioco e locatelli il famoso il famoso play un disastro la negazione del calcio ogni volta che tocca una palla un bambino decide di abbandonare il calcio di cambiare disciplina e tutto il resto confusione rimpiattini schermaglie duelli duelli fisici per contendersi una palla il cui rimbalzo per modesta condizione fisica per modesta determinazione per modesta intensità il cui rimbalzo era sempre a favore della squadra avversaria le zebrette friulane almeno qualche zebra stasera almeno qualche zebra stasera può può sorridere non qualcuno dirà che è stato un miracolo riuscire a contenere anche il passivo verranno adotte tantissime giustificazioni l'unica cosa seria da dire invece secondo me è che se qualcuno avesse un briciolo di dignità dovrebbe dimettersi ma noi sappiamo che colui di cui stiamo parlando voi sapete chi la dici la dignità non sa nemmeno dove stia di casa o comunque quando la distribuivano lui era all'ippodromo ne dovrebbe provvedere dovrebbe provvedere la dirigenza e pazienza se ci rimetteremo se ci rimetteremo dei soldi ma è ora di finirla di farci prendere in giro da questo impostore della panchina sottoscrivo ogni parola dove andare a dormire sì e purtroppo sarà un'altra nottata amare un lato risveglio grazie maledetto forza juve alla fine ma questa juve non questa solo per solo per la maglia solo per la maglia e questa volta fino alla fine si va di questo incubo buon proseguimento a tutti aug grazie a tutti Grazie.